Oggi si è svolto il primo incontro seminariale dedicato alla mobilità elettrica. Nell'ambito di questa settimana, che è la settimana europea della mobilità sostenibile, il Comune di Genova ha organizzato tre momenti di incontro e di riflessione su tre temi, tutti legati alla mobilità sostenibile, oggi la mobilità elettrica, domani parleremo, discuteremo di ciclo mobilità con le associazioni di coloro che vanno in bicicletta, che usano anche la bicicletta per andare a lavorare e venerdì ci dedicheremo invece a una riflessione sugli interventi di pedonalizzazione e sulla sicurezza della segnaletica davanti alle scuole, cioè quello che ha fatto il Comune, ha fatto l'amministrazione comunale fino ad oggi e quello che è in programma nei prossimi mesi.